Cavolo, ma qui hanno proprio tolto tutto. Ok, da dove iniziamo? Puoi iniziare stando di guardia alla porta. Ehi, nessuno lo deve sapere, nessuno deve entrare, è chiaro? Ok. Mi medusi quanto le pare, non si può entrare. Sono una strutturata e ti ordino di farmi entrare. Non è la mia responsabile oggi, perciò... Non farmi usare la forza. Mi piacerebbe che ci provasse. Ehi, Joe, tutto ok, l'ho chiamata io, è a posto. Spero capisca che non mi sarei mai rivolta a lei in questo modo e non vedo l'ora di lavorare ancora con lei. Come posso aiutarti?